Ingredienti Dosi per 4 persone 300 grammi di riso 500 grammi di asparagi 50 grammi di lardo Una cipollina Olio Sale Uno spicchio d'aglio Una manciata di prezzemolo 100 grammi di groviera Preparazione Pulire gli asparagi Eliminare la parte più dura del gambo e cuocerli in acqua salata Scolarli al dente Conservando a parte l'acqua di cottura Tritare il lardo con la cipolla e il prezzemolo e mettere il trito in una casseruola Farlo soffriggere con due cucchiai d'olio Unire il riso Insaporire bene e cuocere aggiungendo un po' dell'acqua di cottura degli asparagi Qualche minuto prima di togliere il risotto dal fuoco Aggiungere le punte degli asparagi Mettere il formaggio tagliato a dadini Il piatto è pronto Buon appetito! Buon appetito!